Camera di commercio si sta impegnando da anni nel incentivare la green economy nel nostro territorio particolarmente per il settore del legno abbiamo sosteniamo da parecchio tempo la certificazione emas che è una certificazione che riguarda sia il territorio e anche le imprese contemporaneamente l'attenzione per la green economy la camera lo ha avuto con alcune iniziative che negli anni ha fatto voglio solo ricordare che relativamente alla giornata dell'economia quest'anno aveva come titolo proprio la green economy e le problematiche relative a questo contemporaneamente qui in camera di commercio abbiamo fatto una manifestazione con union camera nazionale e con simbola proprio relativamente alla green economy particolarmente nel nostro distretto del legno la iniziativa di oggi è un'iniziativa che segue questo percorso perché attraverso questo progetto l'intendimento è quello di poter agevolare particolarmente le piccole e medie imprese e magari tramite delle aggregazioni affinché riescano anche loro ad ottenere la certificazione iso e contemporaneamente anche la certificazione emas perché riteniamo che questi siano due elementi importanti direi quasi essenziali affinché poi attraverso queste due certificazioni le nostre imprese possano avere la dimostrazione concreta della loro qualità della capacità di innovazione e particolarmente che il prodotto che loro producono avviene da un territorio dove le attenzioni sono sia da parte delle aziende ma anche dal territorio stesso credo che questo sia un'arma vincente per proporci poi nei mercati internazionali dove le certificazioni ambientali e l'attenzione per la green danno un valore giunto al prodotto da loro realizzato Il distretto è partito proprio la collaborazione è partita dall'inizio con la camera di commercio e da anni il distretto ha investito moltissimo sul tema della sostenibilità e dell'ambiente e con la certificazione del distretto stesso e poi con l'accompagnamento di alcune aziende abbiamo ritenuto fondamentale in questo momento in cui è necessario dare un ulteriore valore aggiunto alle nostre imprese e ai loro prodotti continuare a promuovere il tema della sostenibilità che è sicuramente strettamente legato anche al Made in Italy e a quello che ci viene riconosciuto nel mondo I nostri produttori sempre attenti a queste iniziative ci hanno richiesto un ulteriore impegno su questo e noi ovviamente ben volentieri con la partnership della camera di commercio della provincia ci stiamo muovendo in questo ambito sul tema della sostenibilità peraltro come dicevo prima non nuovo assolutamente per il distretto c'è una collaborazione con la provincia e con le associazioni di categoria che va avanti da numerosi anni e che vede anche in questi mesi la definizione di un marchio di prodotto ambientale siamo facendo la sperimentazione con il nuovo anno poi nel progetto i partner saranno anche il ministero dello sviluppo e quello dell'ambiente che è già presente nel nostro tavolo